ciao ragazzi vi faccio un breve recap della giornata di oggi primo giorno di prove libere siamo riusciti a partire nonostante facesse un po freschetto però almeno non è venuta giù la pioggia partiti con la super sport più o meno a tre quarti di giro a bangalò bandiera rossa per incidente tutti fermi ovviamente il tempo che ci è voluto per ripristinare il tutto ha fatto sì che terminasse la sessione di prove libere per cui quando ci hanno riportato al paddock sono ripartito poi con la junior e ho completato un solo giro e al termine del primo giro ero secondo poi sono rientrato al paddock ho cambiato moto e sono ripartito con la 400 purtroppo poi nuovamente bandiera rossa per cui sono nel momento in cui danno red flag quindi bandiera rossa spariscono tutti i tempi dal dal light timing e non siamo riusciti a capire come eravamo posizionati con la 400 sono molto soddisfatto perché nonostante le due interruzioni però comunque su tre moto che guido due sono completamente nuove per me e il feeling è stato comunque positivo da subito tanto è vero che come vi ho detto nella junior il primo giro l'unico giro che ho fatto ho concluso in seconda posizione e nella 400 dovrei essere comunque nei primi 34 quindi ripeto sono abbastanza soddisfatto domani speriamo che non venga giù il diluvio anche se le previsioni dicono questo perché comunque io ho bisogno soprattutto con con le due moto nuove di starci il più possibile sopra e di fare il più possibile chilometri su questo tracciato quindi vi aggiorno domani su come andranno le prove se riusciremo a farle e niente un saluto